oh ancora e ancora ancora lasciala che la lascia andare ma scusa vai a fare la zona che è bella perché devi fare solo sta roba vai a fare questa zona ora fanno tutti fuori che lui vai a fare la zona è il tuo posto vai a fare la zona segui stefano dai segui loro due dai pizza e segui loro due su segui loro due occhio a che viene dietro quindi scendi pianissimo già dall'alto è perché sennò passi fuori dritto se sbagli vai via dritto e non cercare di girare perché ti ribalti vai dietro a stefano no vai dietro a lui piano e falla bene no quella andava fatto che barbone vai è spara su dritto prego va che è trevito occhio lì ok bravo bene 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 2 io devo dire e vai a fare l'ultimo bene bene bravo vai oh il sesso che lo devi fare eh si è quella dopo è e quella dopo è vai bravo giù giù è rimasto indietro ma dov'è? ti ho detto che potevamo provare di là di traverso lì perché se ti punta eh certo ci vola giù allora allora beh guarda che poi fai come lui è è facile che salta su al volo e scende non ti stupire è come ha detto guido prova prova ma sali da lì e vai dietro a me fai solo questo e vai via dritto stacco anche la videocamera guarda l'hai mangiato no è sputtalo che sputtalo il ragno oh non deve mangiare no poverino cacchio io quello prima sul sasso l'ho salvato e mi sa anche a me devi passare sopra spampi oh ma voi due sei statali dell'ostra lì non devi fermarti eh Luigi quando l'ha imbucata che hai girato non fermarti più eh tienila fino in alto e non chiudere però se chiudi ti fermi lì eh è solo lui che può non chiudere perché quando gli ha dato una manettata è già su un cazzo lui può non chiudere perché lui quando apre dritto va più che toccate la sta tirando su c'è la gomma dura poi c'è la gomma dura poi c'è la gomma anche dura eh ma se è meglio più larga è tutta eh devi andare su largo devi andare su largo di là e andare su veloce una seconda perché ho durato una risposta oh siete o non siete tecnici che cavolo di là può provare la garganella mica noi forza se riesci a farlo si lui se dipende da se non gli sgalla quando gli apre forse è meglio passarti sotto devi via un po' più in piano eh però non devi chiudere io ho chiuso si è da sopra o sotto perché per me è meglio giusto guarda me garganella sempre accesa eh forza stai facendo vedi che oh comunque voi dite quello che volete dite quello che volete che cazzo è una zona o non è una zona del cazzo o no cioè è solo lui che può venire a girare qua oh qualsiasi cosa c'è dentro un gruppo che ti fa male ma perchè lui ha girato ma che quando fa la salita vai nel bosco eh ma che ti frega le lumache eh passare di sotto della pianta eh ti frega le lumache e che non ci siamo ancora allargati di là perchè di là c'è dentro due o tre rampe esagerate bellissime adesso dopo andiamo di là se facciamo il giro di là deve venire il deve venire il il paolo a a pulire va a pulire il va a pulire il va a pulire il se non ti fermi, non ti devi fermare eh, spazio a sassi non ti devi fermare non era quello che volevo fare l'hai fatto e basta basta, hai fatto l'hai fatto in primo te comunque perché sei riuscito a salire hai vinto un portasapone secondo me è meglio sopra hai un po' più di attacco non vuole perché sei finito su qua poi le radici così se non la carichi bene ti vuoi trucco e tre che te lo dicono spampi, dov'è il benelli? ci vuole il benelli ci vuole il benelli qua eh no, ma di lì è inutile amici è fuori col peso è fuori col peso così 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 è fuori col peso è fuori col peso è fuori col peso è fuori col peso è fuori col peso